signori e signori buongiorno benvenuti alla nostra agenzia galev oggi si siamo spostati per andare visitare questa bella casa situata nel centro d'amamet vicino al mare in una zona molto residenziale una casa tipica tradizionale di amamet vedrete tra poco il tipo di architettura usata e l'atmosfera molto speciale per questa casa dunque noi siamo ben situati vicino al mare ecco di qua si può vedere il mare siamo a 15 minuti di passaggio a piedi per andare al mare se no per tutte le attività commerciali per commercio tutto è vicino si può andare a 10 minuti a piedi per comprare qualsiasi cosa abbiamo siamo saliti di qua per fotografare la zona per far vedere l'atmosfera generale di questa casa come ho detto la terrazza è un posto dove si può stare d'estate soprattutto oppure durante la primavera quando si fa molto bello quando fa caldo si può sedere e pranzare fuori oppure ricevere degli amici qua quindi questa è la parte di su saliamo se accendiamo per vedere le diverse camere ecco la prima camera una grande camera dove ci sono due posti di letto la camera come si vede di architettura tipica di amamet moderna nello stesso tempo con un bagno ci sono due finestre per l'evacuazione dell'aria allora qua c'è questa camera tipica con due finestre abbastanza grande per ricevere della luce questa è l'orientazione sudovest dove c'è la miglior sole del giorno dunque di qua passiamo a vedere l'altra camera un'altra camera tipica con un letto doppio incastrato un letto tradizionale poi c'è il bagno qua con una doccia e l'altra camera c'è il bagno qua con una doccia e l'altra camera c'è il bagno qua ecco la doccia all'italiana un po' di qua si può vedere sul bagno qua si può vedere il portile ecco la vedete di qua una vista sul portile con una piscina ecco laável 찾아 c'è il bagno qua ecco l'auto ecco la vedete di qua ecco laedità ecco la visione ecco la visione ecco la visione ecco la visione Dal primo piano scendiamo giù al basso piano dove c'è la cucina e il salotto, un giardino l'interiore, ecco un salotto, un grande salotto legato alla cucina che apre sul cortile dove c'è la piscina. Dal cortile abbiamo la cucina abbastanza grande con un tavolo per la prima colazione, si può anche pranzare qua, c'è abbastanza luce, la casa è costruita per prevedere tanta luce durante il giorno. Qua per lavare le piatte questa lavatrice è pregolifero, poi nella cucina c'è un bagno per gli ospiti, dunque nella cucina si può uscire fuori dove c'è questo tipo di camera, dove si può mettersi fuori, si chiama schifa, è un tradizionale tipico, questo è l'ingresso principale e qua abbiamo una doccia d'estate, si usa dopo il mare. poi di qua possiamo andare a vedere il garage, qua abbiamo l'artigio della macchina, il garage, e il secondo ingresso per la casa. Dunque, si tratta di una bella casa tipica situata nel centro vicino al mare, moderna nello stesso tempo, il suo prezzo sono due camere da letto, salotto, cucina, con una terassa lassù, il prezzo sono 2.200 dinari al mese, quasi uguali a 700 euro. grazie per aver seguito e alla prossima. Ciao!